Inizieranno la primavera prossima i lavori per contrastare l'emergenza Bostrico nel territorio del comune di Songavazzo, in Alta Val Seriana, dove i boschi di Falecchio, Spessa, di Camasone e della Cremonella risultano particolarmente infestati dalla presenza di questo parassita. La Regione ha stanziato mezzo milione per finanziare il relativo progetto che verrà gestito dal Consorzio Forestale della Presolana. Noi abbiamo un territorio particolarmente delicato e particolarmente colpito da questo insetto del Bostrico. Quindi noi ci eravamo mossi già da un paio d'anni. Ho dovuto constatare purtroppo che la situazione in certe aree era molto 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 pericolosa anche per l'espansione. Il sostanzioso finanziamento è stato reperito nel bilancio regionale di previsione per il 2009 grazie ad un emendamento presentato dal Presidente della Commissione Attività Produttive, Carlo Safiotti. Non sarebbe forse più opportuno ritornare a rendere redditizio il lavoro dei boscaioli in modo che tutti i boschi tornerebbero ad essere coltivati e quindi la presenza del Bostrico sarebbe subito individuata e sconfitta. Credo che ci si debba muovere sempre con molto pragmatismo e molta concretezza perché a volte inseguendo la soluzione o cercando la soluzione globale del problema poi va a finire che non si fa niente e non si risolvono neppure problemi che invece possono trovare soluzione. Noi abbiamo trovato la possibilità di stanziare 500 mila euro per questo progetto che era supportato dal Consorzio dei Paesi qui dell'Alta Valle e su quello siamo riusciti a ottenere un risultato importante. Quello del Bostrico è un problema devastante per tutti i boschi sul quale bisognerà però che tutti, dagli operatori agli abitanti, ai cittadini, alle istituzioni facciano una più approfondita riflessione, un problema di tutti che davvero rischia di snaturare tutte le montagne. Fiducioso nella felice realizzazione del progetto è il sindaco di Son Gavazzo Giuliano Covelli nonostante a livello di finanziarie si parli sempre più spesso di soppressione delle comunità montane. Non leggendo il futuro non si può rispondere già oggi a questa domanda ma è auspicabile ed è legittimo pensare che finanziamenti come questo tra l'altro, nello specifico questo verrà realizzato da un consorzio forestale non verranno persi ma saranno conclusi nei tempi debiti.